C'è una scoperta o riscoperta editoriale in lingua italiana di un'autrice americana molto interessante. Dico riscoperta perché anni fa erano stati pubblicati i suoi romanzi, due, in italiano, un po' dimenticati. Adesso Mondadori manda in libreria una raccolta di racconti intitolata con un titolo molto curioso ma tradotto perfettamente dall'originale Oggi una donna è andata fuori di testa al supermercato edizione Mondadori. La prefazione di questo libro di Ilma Wollitzer è di Elisabeth Strout che è una scrittrice importante ad oggi. Noi ne abbiamo parlato più volte nel nostro sito, una scrittrice molto brava che è anche fiuto nel riconoscere il valore di questa sua collega di scrittura. Ilma Wollitzer, pensate, oggi è vivente a 94 anni ma questi racconti uscirono in lingua originale negli Stati Uniti nel 1966, quindi quasi 60 anni fa. E quindi il primo racconto di questa serie è del 66, poi via via abbiamo racconti degli anni 70, 80, 90, su su fino al 2020. E si parla di pandemia, di coronavirus, di Covid-19, pensate, lei oggi ha 94 anni, l'ha scampata. Sono racconti che sono legati da un filo, a parte un paio di vicende con altri personaggi, sono gli stessi personaggi, cioè la stessa donna che racconta di sé le proprie esperienze più intime, più segrete, più riflessive, con grande senso dell'umorismo ma anche con una traccia di malinconia. Lei parla della scoperta dell'amore, della vita coniugale, del parto, del primo parto suo, la nascita di un bambino vista, proprio raccontata da chi ha vissuto tutta questa esperienza formidabile e intensa di mettere al mondo un figlio. E poi le inquietudini, l'insonnia, i timori, le gelosie, i segreti personali, questo nel filo continuativo. E si finisce al tempo del coronavirus, con la malinconia dell'anzianità di questa coppia che sulla parete del frigo con le piccole calamite dice dove un tempo, molti anni fa, pendevamo i disegni dei nostri bambini, adesso abbiamo appeso il piano delle pillole per il colesterolo, per la pressione, per quant'altro, insomma. Guardate, ci si diverte a leggere questo libro, si prova la nostalgia che si prova per i tempi belli che se ne sono andati, ma anche la convinzione che ripensare le cose con una giusta malinconia, ma con la salvezza e dell'umorismo e dell'affetto e della tenerezza serve molto a vivere il presente e con il bagaglio del passato. Scoprirete una bella scrittrice, Ilma Wolitzer, che oggi ha festosamente 94 anni. Grazie a tutti.